Stickman Roof Runner è un simpatico gioco di tipo endless, ossia senza fine. Non dovremmo fare altro che, si fa per dire, del semplice parkour. Il nostro Stickman corre da solo e noi premendo un dito sullo schermo per saltare da un palazzo all'altro decideremo l'intensità del salto tenendolo più o meno premuto. La difficoltà consiste nel calcolare bene la caduta poiché un salto troppo lungo potrebbe impedirci di effettuare il successivo. Il gioco prevede degli obiettivi di play giochi. Enjoy! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.